Buon sabato a tutti, oggi riesco a pubblicare il video di Repilogo Settimanale dove analizzo tutti i principali indici azionari mondiali, il nostro Fuzzimib e il BTP Futures leggermente prima del solito perché poi sarò votato come mi capita spesso in questo periodo a ruolo di scerpa perché anche se alcuni di voi credono sia impossibile che un trasloco possa durare così tanto tempo, io in realtà adesso sono in quella fase in cui elimino il più possibile per portare meno cose nella nuova location e non sono un accumulatore seriale però diciamo che essendo piuttosto disordinato sto cercando di battere il record mondiale di tutti i tempi per i sacchetti condominali di cose da eliminare in modo da riuscire poi nel mese di settembre a fare il trasloco in tempi ragionevolmente brevi. Però anche se in questa fase sono molto impegnato al di fuori di quello che è il mio ruolo di trader e analista perché sono diventato anche questo negli anni cercherò sempre di essere puntuale questa settimana non mi è riuscito sempre nella pubblicazione dei contenuti sia di preapertura che di riepilogo serale e poi anche quelli di riepilogo settimanale per larghe capitalizzazioni in sabato e per mid cap star e growth la domenica. Il mercato come avrete notato praticamente tutti sta facendo un movimento AV. Vi ho già detto in più di un'occasione che è il movimento più difficile da riuscire a anticipare perché l'unica possibilità per guadagnare in un movimento AV è comprare i minimi però perdonatemi e non vorrei che chi lo ha fatto si senta per questo giudicato però sperando che ci sia un rimbalzo perché comunque quando abbiamo comprato abbiamo longato delle rotture ribassiste lì entriamo in quella casistica che è lo sgrana rosario trading adesso il quadro è completamente cambiato se abbiamo comprato allora che poi si tratta di 10 giorni fa 15 giorni fa siamo dei fenomeni ovviamente quando dico 10 15 giorni mi riferisco sempre alle giornate di borsa aperta e chi non ha comprato è un fesso però attenzione è un mercato anomalo da diverso tempo l'ho letto questa mattina nei commenti perché oggi verranno risposti tutti i messaggi che non hanno ancora avuto risposta però come sapete li leggo sempre tutti e uno di questi messaggi giustamente diceva ma non è che con il taglio dei tassi i mercati azionari inizieranno a scendere perché la domanda non è peregrina perché siamo saliti su mancati tagli dei tassi quando normalmente nella storia quando c'è stato un aumento dei tassi un ciclo di aumento dei tassi i mercati azionari sono stati sempre penalizzati e abbiamo assistito quel fenomeno che si chiama fly to quality quando gradualmente il denaro usciva dal mercato azionario e andava nel mercato obbligazionario quindi vedo tanto entusiasmo giustamente perché il mercato ha recuperato quasi tutto soprattutto per quanto riguarda l'azionario americano perché in europa siamo ancora un po più indietro ormai siamo siamo nuovamente vicini ai massimi storici di recente toccati sia per il dow jones che per lo standard un po 500 però attenzione perché veniamo negli ultimi due anni da un'anomalia molto importante perché oggi tantissimi salgono sul caro del vincitore però due anni fa pensare che il mercato potesse fare questo rally con lo scoppio della guerra russo ucraina con un ciclo di rialzo dei tassi che è stato forse anche oltre quello che ci si poteva aspettare non credo fosse facile da prevedere però come ho già detto in tantissime occasioni la nostra bravura deve essere quella di riuscire ad adattarci a quello che accade sul mercato e adesso il mercato azionario sta dimostrando una forza relativa notevole ma facciamo un attimo d'ordine partiamo da jackson hall ieri ha parlato alle 16 powell hanno non io non cito la fonte perché non vorrei mai che poi ci fossero dei problemi però lavorano molto bene hanno individuato quattro punti estrapolati dal discorso di powell di ieri primo punto è arrivato il momento di iniziare a aggiustare la politica monetaria la velocità e la tempistica dei tagli dei tassi dipenderanno dai dati economici dell'evoluzione dell'outlook e dai rischi due non cerchiamo ne accogliamo con favore un ulteriore raffreddamento del mercato del lavoro tre si è rafforzata la mia convinzione che l'inflazione sia diretta verso il target 2 per cento queste sono appunto dichiarazioni di power quattro la fed ha ampio spazio per rispondere a ogni eventuale rischio che potrebbe presentarsi oltretutto il presidente della fed di atlanta rafael bostic ritiene che entro l'anno si è richiesto più di un taglio dei tassi rivedendo la sua precedente impostazione a luce del ralentamento del mercato del lavoro e dell'inflazione lo ha spiegato in un'intervista a CNBC questo ovviamente dovrebbe comunque far sì che le società che hanno debiti importanti inizino a ottenere nuovamente il favore del mercato e che che ne dicano dovrebbe esserci un minore interesse per il settore bancario perché da che mondo è mondo con i tassi bassi anche se sono ancora altissimi le banche fanno più fatica a fare profitto però miracolosamente gli ultimi anni sono spariti gli npl per cui riusciranno a fare ottimi profitti anche coi tassi bassi ovviamente è una battuta tra l'altro sto liberando la mia stanza ufficio che ho a casa ho trovato un articolo del 2015 di mf dove parla di problemi per i crediti deteriorati che ormai superano il 5 per cento ovvero ogni 100 euro prestati 5 non vengono restituiti oggi le banche hanno crediti deteriorati tra l'1 e 2 per cento come vi ho già detto mi sembra veramente poco credibile però veniamo alla solita analisi degli indici principali indici mondiali vi condivido lo schermo partiamo dal dow jones che è quello più vicino a ritornare sui propri massimi storici ieri ha fatto 41 207 c'è praticamente ormai solo il massimo storico del 18 luglio che è 41 3 e 76 e sembra proprio voler tornare a testarlo standard in pur 500 leggermente meno bene però anche qui siamo molto vicini ai massimi storici ha fatto massimo ieri a 5.641 ha chiuso 5.634 il massimo storico è quello del 16 luglio 5.669 nasdaq composite invece candela inside ieri però comunque anche se qui la possibilità di tornare sui massimi storici è più remota un ritorno a 18 128 18 2 23 poi chiusura gap minimo 16 di luglio 18 3 e 86 nasdaq 100 stessa situazione in cui ha fatto una spinning top ieri e candela inside come nasdaq 100 target 20 0 80 chiusura gap minimo 16 di luglio 20 266 il russell lo tratteremo domani adesso trasferiamoci in europa cominciamo dal dax dax massimo 18 6 70 chiusura 18 6 e 33 obiettivi direi 18 7 43 18 7 79 e poi se non subito un ritorno sui massimi storici che sono stati toccati il 15 di maggio 18 8 e 92 magari 18 8 e 55 mattimo 28 di maggio che sarebbe poi questo è proseguiamo col caccarant caccarant finalmente sta dimostrando la voglia di recuperare visto che è stato l'indice europeo per i problemi politici e per la difficoltà del settore lusso e vi ricordo che sul caccarant ci sono un witton hermes e che ring in particolare che ring ha sofferto davvero molto gli obiettivi sono la media mobile 207,707 media mobile a 107.769 a 207.707 a 107.769 euro stocks 50 leggermente più indietro appena sotto la media mobile a 104.927 poi abbiamo massimo 23 luglio 4.949 quindi 4.968 gap da chiudere sul minimo del 15 di luglio 4.982 euro stocks banks superata la media mobile a 50 139.48 molto vicino la media mobile a 100 141.37 quindi massimo del primo di agosto 143.87 come ogni sabato facciamo anche fuzzicento che è leggermente più avanti con i lavori perché dai minimi ha recuperato veramente bene e adesso sta probabilmente ancora accumulando per andare a fare una sorta di uncino di ross per cui tornare prima a 8.405 che è il massimo del primo di agosto e quindi a 8.416.5 massimo 22 di maggio proseguiamo con l'Ibex 35 molto bene questa rottura che c'è stata ieri perché ha chiuso a 11.278 dopo massimo 11.285 e di conseguenza ha rotto questa forte area di resistenza perché vedete che ha rotto una sorta di triplo quadruplo massimo quindi può tornare a 11.378 e poi sul massimo del 7 di giugno che è 11.469 proseguiamo con Nikkei e Hang Seng Nikkei che adesso è vicino alle medie mobili a 50 38 626 a 138 654 potrebbe superarle la prossima settimana tornare prima a 38 7.81 e poi a 39 188 massimo 31 di luglio Hang Seng qui siamo decisamente più indietro però se riesce a superare la media mobili a 100 17.723 potrebbe tornare prima a 17.864 poi 17.899 gap da chiudere sul minimo del 15 di luglio 17.946 scusate che volevo cerchiarvelo questo gap ecco andiamo adesso al nostro Fuzzi Mibfuture che ha rotto la media mobile a 50 33 570 media mobile a 100 33 8 29 massimo primo di agosto è il primo obiettivo 34 0 30 poi abbiamo 34 3 35 34 4 e 50 ancora bassi i contratti perché siamo sotto i 9 mila anche ieri 8 883 volumi complessivi ve li faccio vedere che li ho preparati sono qui 1 miliardo 573 prima delle aste eravamo 1 miliardo 192 quindi sicuramente c'è questo problema legato al agli scambi davvero molto bassi perché mi aspetto che da lunedì ci sia un po' di aumento e poi ancora a partire da settembre dovremmo tornare ampiamente sopra i 2 miliardi 2 miliardi e mezzo facciamo adesso i BTP futures ho già messo un time frame settimanale perché è quello che rende meglio l'idea i target sono a rialzo 120.28 e poi 121.43 quindi vedo una prosecuzione a rialzo del nostro BTP futures adesso facciamo come al solito l'intero Fuzzimi partendo ovviamente da A2A A2A sembra un po' arrivata di breve lo vediamo dalla Shooting Star del 20 di maggio massimo 20 di agosto massimo 2,062 chiusura 2,034 non è ancora detto che inizi una correzione importante però magari un minimo di consolidamento 1,99,05 1,97,75 eventualmente 1,95,8 ci potrebbe anche stare questo perché probabilmente A2A è l'utilities più forte di tutto il listino italiano quantomeno a livello di larghe capitalizzazioni ma credo in generale ed è l'unica che è riuscita a tornare addirittura a livelli che non vedeva dal mese di settembre 2008 se invece contrariamente a quanto mi dà l'idea dei pattern grafici che abbiamo visto assieme possano indicare dovesse ulteriormente rompere il rialzo potrebbe arrivare fino ai massimi appunto di settembre 2008 2,1675 per parlare di operatività è la classica situazione in cui io se ho il titolo anzi facciamo un attimo bene me lo tengo ancora entrare a questi prezzi anche no ecco questo per per capire magari uno stop profit lo metterai sotto 1,99,05 minimo del 14 di agosto Amplifon sembra stia provando a accumulare su quest'area poco sopra 28,50 deve superare il massimo del 20 di agosto che è 29,58 poi può puntare probabilmente a 30,36 quindi c'è la media mobile a 50,30,64 media mobile a 200,31,19 Azimut direi bene di breve perché credo che possa superare tranquillamente 22,16 riportarsi sulla media mobile a 50,22,40 poi c'è questo massimo del 2 di agosto che è appena sopra 22,42 quindi c'è la chiusura del gap sul minimo del primo di agosto 22,71 Banca Mediolanum anche qui sembra ci sia la voglia di ritornare prima a 10,9 poi 11,04,11,07 Montepaschi ecco Montepaschi qui è un po' più difficile l'analisi perché effettivamente potrebbe sia andare a rompere i massimi di periodo del 17 di maggio 5,36,4 come provare a iniziare una fase di consolidamento con un ritorno a 5,036,4,98,4,909 diamo uno sguardo credo che dobbiamo trovarlo da un giornaliero non è facilissimo però è più opportuno utilizzare un giornaliero direi che in caso di rottura rialzo probabilmente l'obiettivo potrebbe essere 5,636 massimo del 13 di ottobre del 2022 Sondro invece era rimasta un po' più indietro e sembra voglia continuare la sua fase di recupero ha superato ieri la media mobile a 50,6,81 poi ha chiuso praticamente lì in realtà ha chiuso appena sopra obiettivi direi 7,04 massimo primo di agosto e poi media mobile a 100 7,072 Banco BPM configurazione tecnica abbastanza simile a quella di Sondrio respinta ieri dalla media mobile a 50 6,138 però può superarla la prossima settimana riportarsi sulla media mobile a 100 6,232 poi massimo primo di agosto 6,37,4 Biper anche Biper è in procinto di superare questo 5,06 massimo 19 di agosto chiudere il gap sul minimo del primo di agosto 5,12 poi massimo di quella stessa seduta 5,39,6 Brunello Cucinelli pausa fisiologica dopo il berrelli di breve però è sostanzialmente una candela inside quella di ieri per cui è ancora possibile un ritorno prima sulla media mobile a 100 92,3 poi quella a 200 92,55 quindi massimo 15 di luglio 93,8 massimo 12 di luglio 94,85 Campari io credo che ci sia assolutamente la possibilità di un rimbalzo vi ho già detto come questa fase io la stia interpretando come accumulativa al superamento di 8,30 c'è sì un 8,34,4 ma poi si va direttamente a 8,60 avendo in realtà poco sotto a 8,56 la media mobile a 50 e poi 8,72,2 8,75 Diasorin Diasorin ottima la chiusura di ieri perché è sui massimi di giornata a proprio a 103 e il target per le prossime sedute è 104,5 105,7 Enel anche Enel devo dire piuttosto bene sembra voglia andare a superare ieri ha fatto 6,72,5 6,73 è il massimo del 26 di luglio quindi 6,80 6,84,3 e poi può ambire a 6,88,5 6,93 massimo del 12 di luglio Eni invece continua al momento il trading range compreso tra 14,254 c'era stato l'annuncio che vi avevo già detto del closing della controllata Nigerian Agipoil Company alla società energetica nigeriana Oando però l'idea è che possa tornare prima a 14,672 avendo peraltro la media mobile a 24,662 e poi massimo primo di agosto 14,88,2 massimo 31 di luglio 14,91,2 Erg anche Erg è un altro titolo che mi dà l'idea sia in una fase accumulativa per cui potrebbe riportarsi prima a 23,88 poi a 24,38 che è il massimo del 5 di agosto quindi media mobile a 124,44 Ferrari allora Ferrari è un caso incredibile perché guardate voglio fare una verifica veloce in questo caso la cito la fonte lo guardo velocemente da investing perché come vi ho già detto tante volte non si discute il quadro tecnico però alla chiusura di ieri abbiamo una capitalizzazione di mercato ormai superiore ai 75 miliardi in una fattispecie 76,6 miliardi e un price earning di 56 come vi ho già detto sui fondamentali se valesse un 30-40% in meno non sarebbe un dramma cioè io considero che quando dovessi valutare Ferrari 40 volte gli utili mi sembra già una valutazione abbastanza generosa considerando che all'incirca la media del settore lusso è attorno a 30 quindi darei già al titolo un premio capite bene che se adesso è 56 e io avessi un price earn di 28 su Ferrari significherebbe che il valore diventerebbe in automatico 215-220 euro per cui ha fatto benissimo perché chi guadagna ha sempre ragione chi ha creduto nel titolo però adesso dobbiamo iniziare a valutare anche come gestire se abbiamo il titolo in portafoglio in stop profit la posizione io non mi nascondo che già sotto 427.7 applicherei uno stop profit perché non sarebbe scandaloso rivedere Ferrari a 420.6 ma anche a 413.6 minimo 16 di agosto avendo un gap oltretutto piuttosto ampio da chiudere sul massimo del 14 di agosto a 406 vi invito a vedere il rischio di divergenza ribassista su RSI che può indicarci oltre che la shooting star quasi gravestone doji dopo l'ennesimo massimo storico di ieri a 435.5 il rischio di una potenziale correzione di breve periodo finisco molto bene supera la media mobile a 50 14.83 massimo 14.97 e mezzo chiusura 14.90 c'è il gap da chiudere sul minimo del primo di agosto 15.09 poi in quella stessa seduta un obiettivo che può arrivare fino al massimo della stessa 15.715 generali generali molto bene obiettivo piuttosto facile a mio avviso da raggiungere il massimo del 31 di luglio 24.3 poi diventa un po' più complicato il gap davvero ampio credo sia lo stacco dividendo se ricordo bene minimo 17 di maggio 24.77 era sembra stia provando ad accumulare qui poco sopra 3.35 questo significa che il titolo può riportarsi prima a 3.47 poi 3.58 e quindi abbiamo poi 3.53 2 massimo 6 di giugno e il massimo di periodo del 15 di maggio 3.58 e 8 anche Interpump sembra pronta per una nuova accelerazione a rialzo primo obiettivo 39.84 gap da chiudere sul minimo del 31 di luglio a 40 e quindi media mobile a 50 40.30 media mobile a 100 41.53 intesa bella rottura ieri e qui i target sono abbastanza chiari 3.73 massimo primo agosto chiusura gap 3.73 1 minimo 31 di luglio in quella stessa seduta 3.83 e 55 in WIT prosegue la sua fase molto positiva devo allargare il time frame settimanale per vedere che i prossimi obiettivi sono 10.85 e mezzo e poi addirittura 11.14 che è il massimo della seconda settimana di febbraio di quest'anno del 2024 Italgas Italgas bella rottura io Italgas ce l'ho nel mio portafoglio di medio lungo periodo credo che possa andare nelle prossime sedute a testare e probabilmente superare la media mobile a 200 5.064 massimo 20 di maggio 5.11 e mezzo fino a qui non credo ci saranno problemi poi diventa più difficile arrivare fino a 5.20 e mezzo minimo del 14 di maggio perché ovviamente cominciamo a essere su livelli davvero interessanti poi c'è addirittura il gap a 5.38 minimo 17 di maggio che effettivamente è forse al momento un po' troppo ambizioso ancora bene il veco il peggio sembra alle spalle primo obiettivo 9.53 4.971 poi abbiamo un 9.992 massimo 25 di luglio e poco sopra c'è la media mobile a 50 10.036 Leonardo direi che in questo caso abbiamo una resistenza rappresentata dalla media mobile a 100 22.43 poi c'è 22.63 e area 23 che è una resistenza molto importante c'è una notizia su Leonardo la fonte è il quotidiano tedesco Anders Blatt che afferma che il management di Rainmetal ha ricerca di margin acquisition e tra gli esperti il nome di Leonardo spicca su tutti una fonte afferma ci sarà un consolidamento e Rainmetal vuole assumere un ruolo attivo mediobanca ci sono tutti i presupposti per tornare fino a 15.37 e poi vedete che oltretutto per trovare dei livelli superiori a questo 15.37 dobbiamo tornare molto molto indietro dicembre 2007 15.76 passiamo adesso a Moncler Moncler ha chiuso ieri sopra la media mobile a 50 55.76 primo obiettivo 57.2 massimo 26 di luglio poi può arrivare fino a 58.62 massimo 12 di luglio la media mobile a 200 appena sopra perché 58.81 Nexi Nexi direi ancora molto bene io ho il titolo nel mio portafoglio di medio e lungo periodo massimo interdice 6.23 2 chiusura a 6.20 per esempio Nexi uno di quei titoli che se inizia un serio taglio dei tasti avendo un debito attorno ai 5 miliardi di euro potrebbe sicuramente beneficiarne vi ho già detto 6.32 8 6.33 6 poi media mobile a 206 38.9 fatemi vedere questo massimo di periodo del 15 di maggio potrebbe arrivare forse fino a 6.45 4 attenzione perché al momento non vedo pericoli per un inizio di correzione ma siamo a 93 di RSI quindi il titolo è in forte per comprato Pirelli direi che pur essendo rimasto indietro ieri ha dato un primo segnale importante perché ha chiuso un tic sopra la media mobile a 200 5.44 ha chiuso a 5.44 obiettivo la media mobile a 50 5.59 poi massimo 2 di agosto che è 5.64 poste italiane direi che vuole tornare prima a 12.83 e poi in area di massimi storici che è area 13 Prismian c'è il gap da chiudere sul minimo del 31 luglio che è 63 in quella stessa seduta ha fatto un massimo a 64 e poi rimane il massimo storico del 24 di luglio che è 64.66 Ricordati sta facendo un po' più fatica nelle ultime sedute ma direi che può tornare fino a 52.60 poi massimo 30 di luglio 53.25 Saipem dovrebbe proseguire la fase di recupero con un primo obiettivo a 2.16 8 c'è poi il micro gap da chiudere minimo primo di agosto 2.17 4 quindi media mobile a 50 2.19 6 media mobile a 100 2.21 e 4 snam snam ieri spinning top respinta dalla media mobile a 200 4.42 9 chiusura a 4.42 ma obiettivi a 4.45 2 4.46 e 7 e poi si può arrivare fino a 4.52 9 4 54 e 6 Stellantis i problemi come vi dico da giorni sono sempre tanti addirittura l'ultima è che il governo ve l'ho già letto ieri sposterà altrove i fondi pubblici destinati alla gigafattoria di termoli se non avrà risposte a breve dalla società ha detto il ministro dell'impresa dei mediterali Alfredo Urso ma il titolo è impostato per proseguire nella sua fase di recupero ha un gap da chiudere sul minimo del primo di agosto 15.144 poi in sequenza 15.496 15.68 quindi 15.942 massimo 30 di luglio STM credo che nonostante sia indubbiamente rimasta molto indietro possa rompere 28.67 che è questo massimo del 2 di agosto andare a chiudere il gap lasciato aperto sul minimo del primo di agosto 29.55 poi massimo primo di agosto 31.165 Telecom sta consolidando poco sopra la media mobile a 100 che è 0.231 però sono ancora positivo sul titolo per un ritorno a 0.2383 massimo 19 di agosto poi c'è 0.2458 massimo 22 di luglio e quindi la media mobile a 200 0.2486 Tenaris mi sembra che sia in una fase di accumulo se non perde il minimo di periodo di 12.05 minimo del 5 di agosto può tornare prima in area 13 poi sul massimo del 2 di agosto 13.63 quindi media mobile a 50 13.88 Terna Terna direi che si vuole portare nuovamente a 7.78 7.79 poi massimo 7 di giugno 7.95 2 massimo di periodo 16 di maggio 7.98 2 Unicredit Tentativo di uncino a rialzo quindi rottura di 36.82 per un target sul massimo del primo di agosto 37.83 e mezzo e poi massimo 31 di luglio 38.62 e mezzo concludiamo con Unipol Unipol ieri ha chiuso sui massimi ma poco sotto la media mobile a 50 che è 9.45 2 ha chiuso 9.42 c'è questo 9.43 e mezzo massimo del 2 di agosto poi c'è la chiusura del gap minimo primo di agosto 9.52 e mezzo e quindi in quella stessa seduta c'è un massimo sicuramente ambizioso che però potrebbe anche visto come si sta impostando andare a ritestare ovvero 9.93 e mezzo con questo ho concluso auguro a tutti un buon sabato e noi ci vediamo domani nuovamente credo un po' prima del solito per il video del riempilogo settimanale per Midcap Star e Growth a domani a domani a domani l'altro a domani a domani Grazie a tutti